Difficile scegliere la cosa più bella di questa serata, tra il primato in classifica, la prestazione della squadra e il tuo gol, cosa scegli? Sì, è stata un'ottima prestazione da parte dei miei compagni, sono molto contento del mio primo gol in Serie B, soprattutto contro una squadra che, essendo irpino, è molto rivale alla mia città. Questa cosa la senti ancora tanto, anche nelle ultime interviste che hai fatto, hai sempre voluto sottolineare la tua provenienza? Sì, appunto, io sono Nispino Doc, come tutti i miei compagni sanno che vengo da Avellino e sono anche tifoso dell'Avellino. Quindi è un doppio significato per te il gol di questa sera? Sì, doppio significato, sono molto contento. E la dedica che hai fatto è per qualcuno in particolare? Sì, per la mia fidanzata e soprattutto per la mia famiglia che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Una cosa Fabiano, ritornando poi alla partita e anche alla tua prestazione, tu sei entrato un po' in punte dei piedi, quasi da semi sconosciuto, e poi piano piano ti sei preso in mano non soltanto la fascia ma anche il gioco di quest'Empoli, perché giochi una quantità di palloni infiniti. Sì, sì, sono arrivato qui con l'obiettivo di dimostrare le mie qualità, le mie potenzialità e sono molto contento che sono riuscito a ritagliare il mio posto e devo continuare così sempre al massimo. Avevi preso gusto sul gol perché hai provato a ripeterlo anche nel secondo tempo con un'azione identica. Sì, sì, avevo provato a ripeterlo, però ripeto, adesso siamo concentrati per la prossima partita a Lecce e dobbiamo migliorare alcune cose. Ecco, in vista delle prossime partite è un mini-torneo, voi affrontate praticamente Lecce, Frosinone e Monza in serie. Quanto sarà importante, visto anche il primato in classifica? Sì, è molto importante, noi comunque siamo prima in classifica, gli avversari ci temono e dobbiamo concentrarci e migliorare, appunto, come ho detto prima, su alcune cose. Nonostante una prestazione super, comunque il mister Dionisi si sta addosso tutta la partita. Cosa ti chiede in particolare? Dove vuole che tu migliori? Su alcune preventive, mi chiama sempre, però, appunto, per restare concentrato in partita.